E di nuovo ci vengono in aiuto le parole Totus Tus, tutto tuo, Dio, Gesù, Maria. Madonna nera oggi in pellegrinaggio, stasera è qui in mezzo a noi, lei è conosciuta come Madonna nera, ma perché è nera? Anche in questo c'è un simbolo della devozione di questi secoli, il fumo delle candele che accendevano le persone per prolungare le loro preghiere, i respiri di tutte le persone che si radunavano davanti a questo sguardo sofferente. Da questo sguardo premuroso, da questo sguardo materno, aiutaci a pregare, aiutaci ad amare e dire sempre Totus Tus, tutto tuo, tutto tuo, Maria, perché sei piena di grazia e il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne.